Un giovane insoddisfatto e infelice si reca da un filosofo che è convinto che la felicità sia alla portata di tutti. Ne nasce un dialogo che si articola nel corso di 5 notti. Rispondendo alle domande del giovane uomo, il saggio filosofo gli svela perché molte persone si sentono infelici, indicandogli poi il segreto per accedere alla vera felicità. E' in questo modo che si articola il coraggio di non piacere, il bestseller giapponese che ha conquistato oltre 10 milioni di lettori nel mondo, diventando un vero fenomeno editoriale. Ma qual è questo segreto che il filosofo svela al giovane per permettergli di essere veramente felice? E' proprio quello che vediamo oggi in questo video in cui ti presenterò le idee principali del libro Il coraggio di non piacere, concludendo poi con una mia recensione. Partiamo con la prima idea. Puoi scegliere di cambiare in qualunque momento. Durante il loro primo incontro, il filosofo introduce il suo primo grande insegnamento. Non sono le esperienze passate la causa dei nostri successi o fallimenti. Tutto dipende invece dal significato che attribuiamo a tali esperienze. Questa lezione, così come tutte le altre trasmesse dal filosofo al giovane in questo libro, si basa sulle teorie di Alfred Adler, che in un capitolo viene definito come il terzo gigante sconosciuto della psicologia moderna, insieme ai più famosi Freud e Jung. Secondo Freud, i traumi e le ferite psichiche di una persona provocano la sua infelicità presente. Adler rifiuta questo determinismo causato dal passato. Non siamo schiavi delle esperienze passate e non è il passato a determinare la nostra felicità o infelicità. In tal senso, siamo noi a scegliere come vivere. E persino l'infelicità è una scelta, come illustra il filosofo in una serie di passaggi alquanto provocatori. In una certa fase della vita hai scelto di essere infelice. Non perché tu sia nato in circostanze infelici o ti sia ritrovato in una situazione infelice, ma perché hai ritenuto che esserlo fosse idoneo per te. E poi, in un altro passaggio, se lo stile di vita non è una cosa con cui sei nato, ma che hai scelto personalmente, deve essere possibile sceglierlo di nuovo. Ora, sono consapevole che questa situazione potrebbe causare irritazione, rabbia e molte persone che si sentono insoddisfatte e infelici. Ed è proprio la reazione del giovane che non riesce ad accettare questa idea. Non può comprenderla e dunque accettarla. Tuttavia, questa visione ci fornisce un potere straordinario perché ci permette di capire che in ogni momento è possibile cambiare le cose. Nel libro leggiamo Le persone possono cambiare in qualunque momento, a prescindere dall'ambiente in cui si trovano. Sei incapace di cambiare solo perché decidi di non farlo. Se ci riflettiamo su, questo passaggio è uno dei pilastri della crescita personale. Se non fossimo convinti di poter cambiare le cose e di poter agire per migliorare noi stessi e la nostra vita, allora non avrebbe senso per me stare qui a raccontarti queste cose e per te ascoltarle. Non avrebbe senso leggere libri di crescita personale o cercare modi per essere più produttivi, felici e realizzati. Certo, è innegabile che alcune persone si portino dietro un bagaglio del passato abbastanza pesante, ma è altrettanto innegabile che l'unica via per alleggerire quel bagaglio e cambiare le cose è prendere in mano la nostra vita per cercare di essere più felice. Naturalmente, come spiegherò nella recensione, esistono delle eccezioni, persone che hanno problemi davvero molto gravi di salute o problemi legati a delle condizioni che sono molto difficili da risolvere, come quelle di estrema povertà, o magari che hanno avuto traumi davvero pesanti, drammatici. In questo caso è vero che la crescita personale è da sola e la volontà di voler cambiare non possono davvero aiutare. Passiamo adesso alla seconda idea. Durante il secondo incontro, il filosofo spiega al giovane che tutte le nostre difficoltà nascono dalle relazioni con gli altri. Prendiamo come esempio il senso di inferiorità. Non potremmo sentirci inferiori se non ci fossero gli altri. Persino un dato oggettivo come la nostra altezza è in realtà frutto di una valutazione soggettiva. Ricordo un mio caro amico di infanzia che soffriva parecchio perché era abbastanza basso. Il suo problema derivava dal confronto con gli altri perché se non ci fosse stato nessuno con cui paragonarsi non avrebbe avuto motivo di considerarsi basso. E fin qui il ragionamento non fa una grinza. Ma noi non viviamo soli su un'isola deserta per cui molte persone soffrono di questo senso di inferiorità. E ciò che dobbiamo davvero capire è come risolvere questo problema. Prima di tutto il senso di inferiorità non deve diventare un pretesto. Nel libro leggiamo Il complesso di inferiorità è la condizione in cui si inizia a usare il senso di inferiorità a mo' di pretesto. Così si pensa Non sono molto istruito perciò non posso farcela oppure Non sono bello perciò non mi sposerò mai. Per uscire da questa trappola dobbiamo cambiare la nostra visione del mondo e capire che la vita non è una competizione e che non dovremo paragonarci agli altri ma solo con il nostro sé ideale. Anche questo è un concetto cardine della crescita personale espresso molto bene da Jordan Peterson nel suo 12 regole per la vita. Uno dei capitoli si chiama proprio Confrontati con chi eri ieri invece di paragonarti a qualcun altro. E possiamo espandere dicendo Confrontati con chi eri ieri e con la persona che vuoi diventare domani con il tuo sé ideale con la migliore versione di te stesso o di te stessa. Passiamo al terzo insegnamento. Durante la terza notte il filosofo illustra l'idea cardine di tutto il libro. Per essere felici dobbiamo smettere di cercare l'approvazione degli altri. Molte persone hanno bisogno di soddisfare le aspettative altrui e questa necessità condiziona fortemente le loro vite. Nel libro leggiamo Il profondo desiderio di approvazione sfocia in una vita passata a seguire le aspettative di chi vuole che tu sia un certo tipo di persona. In altre parole getti via il tuo vero io e vivi la vita di altri. Qui un concetto centrale è la divisione dei compiti cioè saper distinguere tra ciò che è sotto il nostro controllo e ciò che appartiene agli altri. È un'idea molto vicina alla dicotomia del controllo di cui parlava per esempio il filosofo stoico Epiteto. Non è il mio compito farmi approvare dagli altri. Non posso controllare come gli altri giudicheranno le mie azioni. Il mio compito è vivere la vita che voglio soddisfare le mie aspirazioni e cercare di essere felice. Se impariamo a dire piacere agli altri non è il mio compito allora la nostra vita diventerà più semplice e leggera. Tuttavia è un processo tutt'altro che semplice e che richiede tanto coraggio. Ce lo spiega ancora una volta il filosofo. Forse è più facile soddisfare le aspettative altrui perché così si affida la propria vita agli altri. Per esempio percorri la strada spianata dai tuoi genitori. Anche se ci sono molte cose con cui potresti obiettare finché rimani su una strada già tracciata non ti smarrisci. Se invece scegli da solo è normale che ogni tanto ti smarrisca. Ti scontri con il muro del come bisogna vivere. In altre parole il ragionamento è il seguente. Cercare l'approvazione degli altri è una scelta di comodo perché spesso è molto più semplice far scegliere ad altri che prendere in mano la nostra vita e decidere come vogliamo viverla. Ci vuole infatti tanto coraggio per decidere come bisogna vivere. Un coraggio che potremmo definire il coraggio di essere felici. E spesso per essere felici dobbiamo fare i conti con l'eventuale disapprovazione degli altri. In questo senso il coraggio di essere felici sottintende il coraggio di non piacere. Questo è il segreto che il filosofo svela al giovane e a tutti i lettori che poi non è tanto un segreto perché il coraggio di non piacere è proprio il titolo del libro. C'è tanta verità in questa visione delle cose. In passato ho parlato del libro Vorrei averlo fatto i cinque rimpianti più grandi di chi è alla fine della vita. Ebbene secondo Bronnie Ware autrice del libro uno degli impianti più frequenti tra i malati terminali di cui si era presa cura era quello di non aver vissuto in modo fedele a se stessi e di non aver preso le proprie decisioni liberamente. In altre parole di non aver avuto il coraggio di vivere la vita che volevano davvero magari facendo i conti con la disapprovazione degli altri. Per tornare a il coraggio di non piacere per completezza cito gli altri due insegnamenti trasmessi dal filosofo. Idea numero 4 Non sei il centro del mondo Molte persone credono di essere il centro del mondo cercano l'approvazione degli altri ma la verità è che agli altri non importa tanto di come siamo e di quello che facciamo. Lo spiega anche Dale Carnegie nel suo Come trattare gli altri e farsi gli amici Le persone sono interessate a loro stesse e non a te per cui non ha senso cercare di continuo la loro approvazione oppure sentirsi in competizione con gli altri a quasi nessuno frega nulla questa è la verità Quando iniziamo a vedere gli altri non come concorrenti ma come compagni allora possiamo iniziare a provare un desiderio di condivisione verso gli altri e vedere la società come una comunità in cui ciascuno può contribuire e portare valore e la sensazione di portare dei vantaggi di portare valore a questa comunità ci può far sentire che valiamo di più e può aumentare quindi la nostra autostima durante la quinta e ultima notte il filosofo svela al giovane la menzogna vitale più grande di tutte ossia evitare il presente la vita esiste infatti solo nel momento presente e rimuginare sul passato o proiettarsi costantemente nel futuro ci allontana dalla felicità nel libro leggiamo finora hai voltato le spalle al presente puntando la luce soltanto su passati e futuri inventati hai raccontato una grossa menzogna alla tua vita a questi momenti unici perciò getta via la menzogna vitale e non aver paura di puntare il riflettore sul presente anche questo è un light motive della crescita personale basti pensare a il potere di adesso a il miracolo della presenza mentale e anch'io nel mio libro in crescita ho dedicato un intero capitolo a questo fondamentale insegnamento un insegnamento che in un certo modo chiude il cerchio di questo libro e si collega a quelli precedenti ognuno di noi può decidere in questo preciso istante di cambiare e di dare un senso alla propria vita dovremmo vivere il presente come una danza e assumerci la responsabilità di tale danza non è necessario competere con gli altri o avere una destinazione precisa perché di sicuro arriverai da qualche parte in altre parole dobbiamo agire perché è solo agendo che possiamo cambiare il filosofo spiega che studiando il pensiero di Adler ha capito una cosa ossia che il potere delle persone è grandissimo nessuno può cambiare le cose al nostro posto ma se noi decidiamo di cambiare allora tutto il mondo intorno a noi cambia passiamo adesso alla mia recensione di questo volume che è di sicuro interessante perché è incentrato attorno a un problema alquanto diffuso l'ossessione di voler piacere agli altri è una fissa che si traduce in vari modi e che è alla radice di vari comportamenti tossici come paragonarsi di continuo ad altre persone farsi mille paranoie su quello che gli altri potrebbero pensare farsi condizionare da chi ci circonda sentirsi inferiori e avere poca autostima non mi stupisce dunque che il messaggio centrale del libro abbia trovato risonanza in molte persone il coraggio di non piacere spiega in modo semplice e efficace che dovremo iniziare a fregarcene del giudizio degli altri e vivere la nostra vita anche perché aggiungo io ne abbiamo una sola e non possiamo sprecare tempo prezioso cercando l'approvazione altrui o peggio facendo scelte influenzate da altri un aspetto che merita di essere sottolineato è l'espediente letterario di mettere in scena un dialogo tra un filosofo e un giovane che si colloca nella scia della tradizione filosofica inaugurata da Platone con i dialoghi di Socrate molti lettori potranno quindi identificarsi con il giovane e le sue domande questa forma dialogica però potrebbe non piacere a quei lettori che amano uno stile più sintetico ci sono infatti varie ripetizioni e qualche lungaggine di troppo un altro merito del libro è l'aver fatto conoscere al grande pubblico il pensiero dello psicologo austriaco Alfred Adler molto meno mainstream di Freud e Jung tutti questi meriti spiegano il successo straordinario del libro lo ricordo oltre 10 milioni di copie vendute sono davvero tante allora non ne sono sicuro sinceramente è di certo un buon libro che offre tanti spunti di riflessione su come essere più felici ma non lo consiglierei a tutti perché secondo me lì fuori ci sono persone infelici per motivi diversi per esempio gravi problemi finanziari grossi problemi di salute persone che hanno traumi gravi e profondi costoro potrebbero quindi sentirsi traditi dalla promessa ambiziosa del sottotitolo che recita liberati dal giudizio degli altri e trova l'autentica felicità in definitiva il coraggio di non piacere potrà essere una fonte di ispirazione per chi cerca di vivere una vita più autentica e libera dai condizionamenti esterni e del passato tuttavia non rappresenta la panacea per tutti i tipi di infelicità e insoddisfazione è tutto per oggi se questo video ti è stato utile o ti è piaciuto sai già cosa fare puoi mettere un mi piace magari aggiungere un commento per sapere se sei d'accordo con me oppure per farmi sapere semplicemente che ti è stato utile puoi anche abbonarti per non perderti i prossimi video e a proposito di altri video che ci sono su questo canale ti consiglio di dare un'occhiata al mio video su 12 regole per la vita di Jordan Peterson perché contiene degli insegnamenti che sono collegati a quelli che abbiamo visto oggi ci vediamo nel prossimo video buona giornata buona serata e soprattutto buona crescita